Che questa è stata la consulta, quest'ultima è stata una decisione politica, come quando vi hanno bocciato il voto? Secondo me l'hanno approvata non accorgendosi di che cosa stavano votando, l'hanno approvata per sbaglio, però cosa ha fatto a capo A e quindi ben venga questa sentenza. Dichiamo i soldi a tutti, anche a chi... A tutti, se c'è un diritto di cui qualcuno è stato derubato questo diritto va risarcito, poi da domani in avanti io chiederei i contributi alle pensioni alte, ci mancherebbe altro, ma la legge formiera è una legge sbagliata, se oltre che alla Lega lo riconosce anche la Corte Costituzionale, restituiscano il mal tolto e poi la Lega è pronta ad approvare una legge nuova sulle pensioni anche proposta dal PD. Noi siamo pronti da domani mattina a discutere di pensioni in Parlamento anche sostenendo una proposta che viene dal governo, basta che ne parli, il problema è che non parlano di pensioni.